Il tuo idolo chi è? Allora, il mio idolo da bambino era Nedved. Non so perché in realtà, perché ovviamente ero piccolino e guardavo la Juve e mi piaceva, però mi piaceva nel senso non come adesso può piacermi De Bruyne, perché lo vedo e capisco le cose che fa. Mi piaceva perché faceva gol e era forte. Tanto che quando ero bambino mi volevo far crescere i capelli come lui, quindi c'è stato un periodo in cui avevo i capelli a caschetto, però poi i miei genitori mi mettevano il gel davanti, quindi avevo i capelli sparati davanti e dietro a caschetto. Bruttissimo. Infatti poi li ho tagliati. Poi quindi hai detto De Bruyne, no? Sì, e poi adesso, ora come ora, il mio punto di riferimento è De Bruyne per ruolo, per come gioca e capisco le cose che fa, quindi mi piace lui. Ciao!